Ebbè, con la parola dobbiamo andare via lì, e lì è che è bella, o c'è guadagnolo. Io ho chiesto, io ho chiesto, io ho chiesto, io ho chiesto, io ho chiesto. E che non tiaksano, sono solo sposti, io ho chiesto, io non mi devo fare. Ka occhio in corno da wandero... Ebbè èningenissimo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti